Salve a tutti ragazzi, oggi vi porto in un altro bellissimo posto, le cave di Prun. Le cave di Prun sono delle antiche cave sotterranee di pietra, che si trovano a Prun, nel comune di Negrar, in provincia di Verona. Disposte sul versante orientale del Monte Robiago, si estendono per oltre due chilometri, sono state interamente scavate a mano, dalla mano esperta dei cavatori locali, che hanno utilizzato il loro prodotto, trasformando la collina in una maestosa cattedrale. Secondo le fonti storiche, queste monumentali cave già esistevano agli inizi del 1300 e si sa che le pietre qui estratte venivano portate per la costruzione di chiese e monasteri, dove venivano lavorate dai frati. Utilizzo intensivo di questa pietra avvenne intorno al 1700 e a fine degli anni 90 queste cave furono completamente abbandonate, preferendovi altri scavi realizzati a cielo aperto. Le pietre che qui venivano estratte andarono ad addornare i principali monumenti di Verona, agevolati dal trasporto lungo il fiume Adice e quindi dal Po e in molte città della pianura padana. Dove una volta si cavava la pietra, oggi si è creato un percorso suggestivo di alcune centinaia di metri tra i tunnel e con qualche precauzione e un po' di attenzione si possono visitare liberamente. A presto! A presto! A presto! A presto! A presto!